Allora, 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 adesso, adesso io, io mi sono rotto i coglioni, ok, io, io mi sono rotto i coglioni, avete, avete rotto i coglioni a giocare così, basta, 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 vi prego, basta, questo scempio, basta, non lo voglio più vedere, adesso, adesso, io spero, spero che Brienza, vi prenda, vi prenda, per gara 3 a pistola, vi prenda, e faccia così, così, devi fare così, così deve fare, così, prendervi, prendervi, abbiamo una una e sbattervi al muro, così, così deve fare, perché non è possibile, non è possibile, non è possibile fare una cosa del genere, non è possibile fare partite del genere, santo Dio, non si può, ragazzi, oh, ma siamo free off, siamo free off, oh, siamo free off, ragazzi, allora, eh, scusate, eh, allora, chi è? Piccola interazione, vabbè, gente mi entra in casa, vabbè, comunque, meno male, lo sfogo l'ho fatto prima, allora, cerchiamo di essere seri, ragazzi, cioè, questi, questi venerdì la chiudano, eh, io ve lo dico, questi qui venerdì la chiudano, non si può giocare così, ragazzi, non si può, io spero che adesso davvero Brienza vi faccia, mh, il lavaggio del cervello, perché ce n'è bisogno, eh, ce n'è bisogno, quindi, adesso sveglia, sveglia, venerdì, venerdì voglio un'altra partita, io, sveglia, grazie, forza pistola.